La Locanda della Tormenta e Zellcor presentano L'Epopea di Gilgamesh Un racconto riadattato all'italiano da Zellcor Storia Horrore del Mistero Buon ascolto! Ora qui vi narrerò di colui che tutto ha visto colui che tutto sa che di uomo e Dio era un misto Viaggiò per valli e monti del mare saggiò la brezza da bruto e animalesco raggiunse la saggezza Camminò per vie occultate del mistero apprezzò l'effluvio scoprì cose mai viste dai tempi del diluvio E poi pari a ogni mortale il respiro suo cessò ma su pietra in peritura la sua vita a noi arrivò Uruk la Grande il fiore della Mesopotamia il più immenso crocevia di affari ed esistenze che formicolasse sulle fertili rive delle Ufrate venne scossa fin nelle fondamenta da un tuono ululante prolungato che riecheggiava sulle piazze lungo le vie gravido di cupe premesse il segnale d'allarme la gente si paralizzò gli occhi sgranati di sorpresa sgomento e terrore molti vasi colmi d'acqua caddero dalle mani delle donne e da quelle dei mercanti scivolarono ceste piene di frutta gli schiavi interruppero i loro via vai le meretrici trasalirono tra le braccia dei clienti e i sacerdoti in svolazzi agiati di tuniche sontuose corsero ciabattando fuori dalle porte dorate delle Anna la casa del cielo luogo di venerazione del dio Ann e della dea Inanna mentre il martellare che fin dalle prime ore dell'alba si udiva nei luoghi dove le mura difensive stavano venendo edificate venne sostituito da versi di paura e di sbigottimento Uruk era sotto attacco come formica alla presenza di un predatore la gente sciamò in gran fretta raccogliendosi nelle vie le donne afferravano i figli e i fratelli minori trascilandoli nelle case mentre le guardie scambiandosi ordini concitati correvano alle armerie per equipaggiarsi di armature scudi e spade ma prima che quell'esercito improvvisato potesse schierarsi in assetto da guerra un altro suono non meno tonante del precedente rimbombò sopra la città facendo nuovamente paralizzare i cittadini era quella una grassa gioiosa e divertita risata nell'udirla lo spavento degli abitanti di Uruk si convertì dapprima in sollievo poi in una rabbia accocente e umiliata era accaduto di nuovo centinaia e centinaia di occhi brillanti di rancore dardeggiarono verso la torre più alta del palazzo sotto il cui ampio padiglione la crepitante risata di re Gilgamesh si amplificava dal suo torace possente facendosi sentire in ogni dove ancora una volta si era preso gioco dei suoi sudditi soffiando il corno d'allarme senza che alcun pericolo minacciasse la città la quale non avendo ancora una cinta muraria completa era quanto mai vulnerabile da un attacco esterno masticando maledizioni e ingoiando gli insulti uomini e donne tornarono borbottando i propri affari riprendendo posto dietro bancarelle e telai deponendo elmi e armi frattanto i sacerdoti facevano ritorno al tempio e il loro chiacchiericcio preoccupato e irritato rimbalzava sulle pareti coperte di affreschi e sui bassorilievi che rappresentavano il dio del cielo e la dea dell'amore è la seconda volta in questo mese che ci fa balzare il cuore fuori dalla bocca per lo spavento è un comportamento intollerabile e il mese scorso ci ha giocati questo scherzo tre volte ah che grande pena per la nostra uruk essere guidata da un simile sovrano e dire che in lui scorre il potere degli dèi eredità di aruru la grande creatrice un gran peccato che insieme alla forza smisurata e alla beltà impareggiabile non lo abbia anche dotato di un buon senso e di responsabilità per tacere della sua indecorosa smodata lussuria i gemiti che arrivano notte e giorno dalle sue stanze riecheggiano fino a questo luogo sacro disonorandolo i padri sono stanchi di veder distrutto l'onore delle figliole che faticano a trovare marito chi vorrebbe una mela a cui qualcuno ha già dato una morsicata lui che domande vergini e prostitute maritato da sposare lui non fa alcuna differenza pur di soddisfare il fuoco che gli arde dentro i lombi oh se solo gli dèi potessero aiutarci prima che una guerra civile sconvolga la nostra povera infelice Uruk così dicevano e si lamentavano i sacerdoti ma anche i guerrieri i contadini gli allevatori e i vasai insomma tutti coloro spinti al limite della sopportazione dagli scherzi crudeli e dalle prepotenze di re Gilgamesh che compensava le sue qualità divine e un'indiscussa abilità nel governare i traffici mercantili cittadini con una biasimevole propensione ad appropriarsi di ciò che non gli spettava a cena mentre consumava il suo solito pasto abbondante esplodendo ancora in grandi risate ripensando allo scherzo con cui aveva fatto sussultare i cuori di tutta Uruk le invocazioni e i lamenti dei suoi concittadini salivano come il fumo del sacrificio oltrepassando quel confine impalpabile che separa il regno divino da quello mortale e lì come un suono in una grotta si amplificava volteggiando sugli scranni d'oro e d'argento sui quali sedevano gli dèi tanti volti magnifici dotati di una bellezza sconosciuta sulla terra ascoltarono pensierosi quel coro indignato e polemico fin quando Han signore del cielo e patrono legittimo di Uruk non si sollevò in piedi torreggiando su tutti gli altri ardendo nella sua veste in tessuta di cielo notturno e trapunta di stelle e di pianeti avete udito tutti Gingamesh la nostra creatura più perfetta e amata si sta mostrando meno perfetta e meno amata di quanto credessimo gli abbiamo concesso più che a chiunque altro affinché usasse le sue qualità per governare con saggezza ma non fa che sfruttarle per mero tornaconto trattando i fratelli con arroganza umiliandoli persino la materia di cui sono fatti gli dèi si corrompe con facilità quando resta nel mondo dei mortali i suoi occhi di sole dardeggiarono sui compagni ancora seduti fino a puntarsi su una dea dal corpo formoso e splendente trappeggiato di una pianta che continuava ad avvolgersi attorno a lei in perpetuo sbocciare di gemme fiori frutti e viticci Aruru signora della creazione fosti tu a plasmare Gilgamesh dall'argilla mista all'acqua dell'eufrate soffiandogli nelle rarici l'alito della vita tua perdanto è la responsabilità delle sue azioni e del suo carattere incostante Aruru non si scompose di fronte a quelle parole ella era nata con la vita stessa e come la vita sapeva far fronte a tutti i problemi Gilgamesh spiegò la dea al comitato celeste era cresciuto ribelle amorale e vizioso perché era incontrastabile così come le brame dei mortali venivano limitate dalle leggi e dalle persone a loro superiori anche Gilgamesh finora intoccabile doveva ricevere un avversario identico e opposto un riflesso parimenti indomito contro il quale non avrebbe avuto partita vinta tale proposta venne accolta da un mormorio d'assenso così la splendida padrona della vita piove sul mondo come una nube d'oro scintillante ricondensandosi proprio sull'argine boscoso delle eufrate dove ancora si vedevano i segni lasciati dalle sue mani nell'argilla quando aveva creato Gilgamesh si inginocchiò ripetendo quei gesti sacri e cantando le sacre parole della creazione agglutinando manciate di fango rossiccio in una piccola figura umana le labbra di Aruru rosse come il sangue che scorre in tutti gli esseri viventi liberarono un alito scintillante che scivolò nel naso di quella figurina appena abbozzata questa avvampò di bagliori ingrandendosi e trasformandosi in una creatura grande e possente il cui corpo nudo e scuro era fremente di una vita incontenibile i muscoli che guizzavano smaniosi di dar sfogo a tutto il fuoco primordiale che la incalzava da dentro ancora umida e fumante di creazione l'essere corse nel bosco ululando e uforico diventando in breve tempo amico e fratello dei cervi degli orsi dei lupi dei falchi e di tutto ciò che correva volava strisciava e nuotava sotto quelle fronde di smeraldo quella creatura venne chiamata Enkidu nei mercati di Uruk proliferavano da un po' strane voci a metà tra lo spaventato e il meraviglioso davanti a boccali di Sikaru e di Kurunnu si chiacchierava della misteriosa creatura gigantesca che si aggirava nei boschi che circondavano la città di quell'essere si diceva che fosse grosso come un orso e nonostante questo rapido quanto un antilope somigliava a un uomo per quanto un bello irsuto gli ricoprisse testa e viso al pari della criniera di un leone eppure vagava nudo e bestiale rifuggendo i viandanti che lo intravedevano nella macchia qualcuno asseriva che fosse sempre circondato da animali che lo seguivano e non lo temevano affatto al punto che gruppi di uccelletti gli saltellavano sulle spalle possenti e nidificavano tra i suoi lunghi capelli indomiti cervi e cinghiali mangiavano dalle sue mani mentre i lupi lo scortavano quando correva a limitare dei campi coltivati nessuno sapeva chi fosse né da dove venisse ma da quando aveva fatto la sua comparsa le bestemmie di tutti i cacciatori di Uruk avevano iniziato a scagliarsi contro di lui poiché scovava tutte le loro trappole e le distruggeva fino a ridurle a frammenti fu proprio uno di questi cacciatori a riportare alla corte del re la notizia di questa creatura né uomo né animale accolto nella sala delle udienze il cacciatore si avviò verso la portantina di cedro dove Gilgamesh era stravaccato presso schiave che lo imboccavano lo massaggiavano con oli profumati e gli pettinavano la folta capigliatura lustra di Mirra ascoltato il resoconto dell'uomo il re fu pervaso da una curiosità sempre più intensa la creatura era certamente qualcosa di straordinario che valeva la pena di incontrare tuttavia sembrava che fosse incredibilmente schivo e che finora ogni tentativo di acciuffarlo o anche solo di avvicinarlo si era concluso con una sua fuga nelle zone più impenetrabili del bosco dove anche i più scaltri finivano per perdersi diventando facile preda delle belve fu osservando una delle concubine che ebbe la giusta idea recatevi alla casa del cielo e mandate a chiamare Shamhat ordino che le sia fatto un bagno caldo che venga profumata con le fragranze più dolci e preparata come se dovesse incontrarsi con me tu cacciatore prenderai in custodia questa donna e la porterai con te nella foresta laddove hai visto quell'essere l'ultima volta e lì la lascerai saprà come cavarsela e riuscirà dove le trappole hanno fallito Gilgamesh tornò a sdraiarsi le mani intrecciate dietro la nuca soddisfatto della sua pensata lo strano essere era descritto come un uomo quindi dell'uomo doveva avere anche le brame e le debolezze e cosa c'era di meglio di una donna seducente versata nell'arte amatoria per accendere le prime e portare alla luce le seconde lui stesso che condivideva tre quarti del proprio corpo con gli dèi non sarebbe riuscito a resistere fu così che Shamat la splendida Yerudula che al tempio di Inanna svolgeva la funzione di prostituta sacra venne consegnata al cacciatore imbozzolata nella più rarefatta seta dell'India condotta alla fonte dove Enchidu era stato visto abbeverarsi una volta lì eseguendo il comando del re il cacciatore tornò indietro da sola la ragazza si spogliò della veste immergendosi nuda nell'acqua limpida che scendeva da una cascata il suo canto e il rumore prodotto dal suo notare non passò a lungo inosservato un sipario di fronde si scostò e da esso due occhi grandi e allibiti la spiarono Enchidu non aveva mai visto una donna meno che mai una così giovane nuda e fresca era candida come l'interno di un fiore delicata come un passerotto ed emanava l'odore di un favo di miele il più invitante che gli avesse mai sfiorato il naso avvinto da un desiderio che fino a quell'attimo neanche sospettava di serbare Enchidu si avvicinò grande e grosso com'era somigliava moltissimo a re Gilgamesh se questo fosse stato esiliato per anni nella foresta eppure anziché balzare addosso a Shamhat le si avvicinò con timidezza e cautela pronto a fuggire se la si fosse dimostrata ostile la donna però non manifestò né terrore né ripugnanza anzi emerse dall'acqua per mostrare le sue grazie invitando Enchidu a entrare a sua volta cosa che vinta la reticenza egli fece si amarono sull'argine della fonte su un letto di erba e di fiori e dopo quella prima volta ve ne furono altre e così fu per sette giorni e sette notti fino a quando la voglia apparentemente inestinguibile di Enchidu non fu finalmente appagata tuttavia era inconsapevole che tanto godimento avesse un alto prezzo da soddisfare se ne rese conto nell'attimo in cui inoltrandosi nella boscaglia e avvicinandosi a un gruppetto di cervi che brucavano questi anziché andargli incontro come loro costume scapparono terrorizzati con il cuore traboccante di sgomento il povero selvaggio tentò di richiamare gli uccelli che stavano appollaiati sui rami ma scoprì di non conoscere più il loro linguaggio vagò ovunque tra la vegetazione piangendo disperato inorridito nel vedere le creature del bosco rifugirlo come di fronte a un qualunque umano l'aver giaciuto con la sacerdotessa della dea dell'amore l'aveva mutato irreversibilmente trasformando il suo odore e facendogli scordare la lingua ancestrale intesa da tutte le creature del mondo eccetto degli umani che se l'erano lasciata alle spalle nel cammino che da bestie li aveva condotti a creature superiori raggomitolato nel proprio dolore si accorse della vicinanza di Shammat solo quando ella impietosita gli si inginocchiò accanto ora era un uomo gli disse con parole soavi ed era giusto che abbandonasse la natia foresta e andasse a vivere tra i suoi simili imparando negli usi e la parola civilizzandosi senza altra scelta ma allettato da quella nuova prospettiva Enkidu si lasciò condurre al di fuori di quello che era stato il suo reame di foglie e di fiori avviandosi con Shammat la quale come giustamente predetto da Gilgamesh senza troppe parole e senza arco o forse armata di qualcosa di mille volte più efficace era riuscita dove tanti cacciatori avevano fallito per molti mesi Enkidu visse in un villaggio fuori dalle mura di Uruk circondato da campi coltivati che venivano irrigati dalle piene del fiume come un enorme bambino gli si dovette insegnare a parlare a lavarsi a radersi e a portare vestiti il suo cibo non furono più i germogli i grappoli di bacche selvatiche o la frutta colta dai rami bensì le focacce di farro cotte nei forni e la birra sorseggiata da boccali in terracotta anima semplice appena affacciata alla civiltà Enkidu era amato e ben voluto poiché con la sua forza prodigiosa e il sapere sulla natura sapeva condurre al pascolo le greggi come nessun altro difendendo il bestiame dalle fiere con il coraggio di un leone aiutando chiunque e svolgendo tanto lavoro quanto dieci uomini non avrebbero mai potuto Shamhat restò a fianco lui e amoreggiarono spesso e lei dopo quegli amplessi gli narrava delle incredibili meraviglie che si celavano dietro le alte mura di Uruk dei suoi giardini pensili ampi quanto foreste delle sue vie labirintiche delle fontane che zampillavano acqua dolce all'ombra possente di torri e di templi ma soprattutto gli parlò di re Gilgamesh sovrano dei sovrani uomo creato a immagine e somiglianza degli dei il più bello il più forte del mondo imbattibile nella lotta quanto nell'amore Enkidu era molto incuriosito da Gilgamesh ma un giorno un viandante gli raccontò qualcosa sul conto del re che glielo fece odiare ferocemente presso Uruk infatti era di rigore un'usanza che lasciò Enkidu sconvolto e disgustato quando un uomo sceglieva una sposa prima di potervi giacere era obbligato a concederla al re al quale andava l'onore di possederla indipendentemente che questo le aggradasse mentre Enkidu veniva edotto agli usi degli uomini nel suo magnifico palazzo Gilgamesh conduceva la vita lussuosa sregolata di sempre divertendosi a sfidare gli uomini più forti del suo esercito per il puro sollazzo di batterli e amoreggiando con ogni donna che gli capitassa portata di braccio nessun guerriero poteva sperare di sconfiggerlo e nessuna fanciulla resisteva al suo fascino una notte appagato dall'aver giaciuto con tutto l'arema al completo il sovrano dormiva della grossa accarezzato dai bianchi raggi lunari e dalla brezza notturna che scivolava dalle finestre i suoi occhi si agitavano sotto le palpebre mossi dalla frenesia di un sogno in quella visione Gilgamesh si trovava sotto uno sconfinato cielo tra punto di stelle e quegli astri si staccavano dall'eternità piovendo abbaglianti sulla terra uno di essi il più lucente fiammeggiante precipitò dritto su di lui tracciando nell'aria una scia di fuoco argentato lunga quanto mille miglia Gilgamesh tentò di scappare ma la meteora lo centrò schiacciandolo al suolo tra affanni e imprecazioni il re tentò di risollevarsi ma la sua tanto decantata forza sembrava inutile per smuovere quella stella che lo soverchiava avvolgendolo con arti di luce eppure si avvide che la vicinanza con essa non gli era affatto sgradita trovava nel suo abbraccio la gioia e il sollievo che tipicamente provava con le sue amanti da ogni dove giunsero persone che lo aiutarono sollevarsi da sotto quella pesantissima sfera di luce presa la tra le braccia Gilgamesh la condussa al tempio recandola Ninsun sua madre le parole della donna furono molto enigmatiche rivelò infatti che quella stella era suo fratello fu allora che il canto del gallo trafisse il sonno del re come un dardo ridestandolo di soprassalto sudatissimo e trafelato per quel sogno incomprensibile corse subito al cospetto di Ninsun per riferirle di quanto visto Ninsun era la donna più adatta a interpretare le visioni portate dalla notte poiché era una sacerdotessa consacrata al culto di Inanna al pari del figlio che era nato per volere divino era una persona che catturava gli sguardi fulgente come la stella del mattino saputo che il figlio voleva tenere conciliabolo con lei fece portare dai servi vino ed atteri nelle proprie stanze e lì accolse il sovrano vedendolo turbato e irrequieto egli le parlò del sonno descrivendolo in ogni particolare e sul viso ambrato di Ninsun incorniciato da riccioli così neri da sembrare trucioli d'ebano si distinse un sorriso di armoniosa comprensione non era un presagio nefasto ma tutt'altro la visione presagiva l'arrivo di qualcuno che per Gilgamesh sarebbe stato un insostituibile compagno qualcuno che sarebbe diventato la sua ombra il suo custode e per il quale avrebbe nutrito un amore ancora maggiore di quello che un uomo nutre per la propria sposa fu durante le celebrazioni per propiziare l'anno nuovo che il sogno di Gilgamesh parve concretizzarsi nella realtà tutti i templi di Uruk riversarono per le strade lunghe processioni di sacerdoti riccamente anghindati mentre ai piedi delle figi delle divinità i fedeli riponevano doni e sacrifici nel vento caldo le fragranze di incenso intessevano rarefatti tappeti di profumo quasi che fiori invisibili sbocciassero nell'aria la popolazione cantava mangiava pregava faceva voti e auguri si ubriacava senza ritegno per accogliere un nuovo ciclo inutile dire che nessuno festeggiava e si rallegrava quanto Gilgamesh che sfilava sul proprio cocchio trainato da nove buoi bianchi il corpo che riluceva come oro i capelli ingioiellati lunghi fino alla vita la barba arricciata che pareva scolpita in un solido blocco di ossidiana lo sguardo da falco accentuato dalle linee di colpi turate sulle palpebre le donne svenivano al solo vederlo soverchiate dall'intimo piacere della sua virilità e gli uomini si sporgevano per toccarlo persuasi che il contatto con lui avrebbe fatto fluire dentro i loro corpi un po' del suo vigore divino il cocchio reale con tutto il chiassoso seguito di sacerdotesse che intonavano inni seguite da un assordante coro di sistri e cimbali agitati dai monaci arrivò nella piazza principale arrestandosi di fronte ai portoni spalancati della casa del cielo dai cui antri scivolavano i veli di fumo profumato sprigionati dai braceri lì in quella alcova era stato allestito un giaciglio di seta indiana pelli di tigre e fiori di gelsomino intrecciati sul quale nuda e quanto mai invitante era languidamente distesa la prostituta sacra pronta a celebrare le nozze simboliche con il re preso dalla frenesia e già eccitato gilgamesh smontò dal carro e si diresse verso il tempio per affondare anima e corpo in quel godurioso ricettacolo quando dalla folla si levò un coro di stupore misto a panico qualcosa di gigantesco balzò in avanti parandosi di fronte al re sbarrandogli la via per il tempio era un uomo ma di proporzioni gigantesche vestito solo con una gonna di montone gilgamesh trasecolò per un attimo fu come guardarsi allo specchio sebbene la persona dinnanzi a lui fosse decisamente più arruffata e pelosa di lui chi sei tu che osi metterti tra il re di uru che la sua donna e in kidu gli dèi ti hanno concesso la parola vedo ma non il cervello così fosse sapresti che non c'è uomo al mondo che possa sbarrarmi la via se ho deciso di passare fatti da parte e in kidu e non ricapitarmi tra i piedi a tutta risposta il colosso si mise a gambe larghe le braccia aperte e i suoi occhi erano scudi di bronzo colpiti dal sole e sbuffava aria dalle narici come un toro pronto alla carica da prima gilgamesh ne fu oltraggiato come si permetteva costui di fermarlo ma poi la sua indole guerriera lo indusse a sorridere vuoi fare la lotta eh fece il re slacciandosi la tunica decorata di frange che gli scivolò dal corpo statuario in pieghe scintillanti prese una posizione speculare all'avversario sono pronto affrontami in kidu si gettarono uno contro l'altro al pari di elefanti rabbiosi e l'impatto delle loro membra generò un tuono che fece ritrarre tutta la folla erano come fusi in una sola montagna di carne e di muscoli i piedi nudi piantati al terreno le schiene in tensione le facce distorte in smorfie di fatica sulle quali scorrevano torrentelli di sudore davanti a Uruk si mostrava uno spettacolo mai visto due divinità vinte in un feroce scontro si avvinghiavano cercando vicendevolmente di stritolarsi le barbe che si intrecciavano tra loro le mani che tastavano in cerca di una presa migliore sulla pelle liscia si separavano ansimanti e rossi in viso scambiandosi occhiate ammirate e poi di nuovo a darsi addosso mugendo e digrignando i denti tentando di gettarsi al suolo Gilgamesh non poteva crederci quell'enchidu lo eguagliava in forza non riusciva a sottometterlo l'iniziale panico divenne euforia non gli importava più della donna perché quella lotta lo divertiva e appagava molto di più ogni ragazza di Uruk poteva essere sua allo schiocco delle dita ma mai prima di allora aveva incontrato un avversario degno di lui il sovrano resistette i muscoli che bruciavano il sudore che lo accecava le articolazioni che gemevano ma infine liberando il bramito di un orso riuscì a ribaltare sulla schiena l'avversario sedendosi su di lui e bloccandogli i polsi Enchidu si divincolò e agitò ma era senza fiato esaurito da quel combattimento che proseguiva da quasi un'ora Gilgamesh si tirò in piedi ansimante e tirò su anche Enchidu abbracciandolo con una grande risata vibrante di soddisfazione per la prima volta sentiva di amare qualcuno che non fosse se stesso ed era la sensazione più rivitalizzante del mondo birra fiumi di birra per dissetare questo guerriero ordinò stringendo Enchidu al suo fianco e arrosti focacce e frutta per sfamarlo e una schiera di meretrici le più esperte formose affinché non si senta solo né oggi né in altri giorni poi afferrando il volto di Enchidu posò la sua fronte contro quella di lui piangendo di gioia Enchidu venne alloggiato nel palazzo nelle stanze riservate agli ambasciatori e dal canto suo Gilgamesh lo amò come siamo un fratello desiderandolo sempre accanto a sé pranzando e cenando con lui coinvolgendolo nelle battute di caccia e concedendogli tutte le concubine che desiderasse era così contento della compagnia di Enchidu che mitigò il suo carattere focoso e arrogante non umiliava più i guerrieri competendo con loro poiché si divertiva troppo a fare la lotta con Enchidu e alla fine era così stanco da non aver più forza nei lombi per svergognare qualche fanciulla il popolo tirò un sospiro di sollievo benedicendo l'arrivo di quel gigante selvatico accadde però qualcosa di strano durante una notte temporalesca nella quale si udivano le strida e le risate delle lamie Enchidu si agitava nel proprio letto infradiciando le lenzuole di lino con il proprio sudore grugniva e gemeva invischiato in quel terribile incubo nel quale si trovava in una landa cupa ed esolata sepolta sotto una bruma smorta e umida che lo intirizzava mentre lui nudo e rattrappito vagava circondato da creature pallide gementi e traslucide shahat gli aveva parlato di quel posto e quindi lo riconobbe era harali il triste buio reame dove vagano le anime dei morti che trovano misero sostentamento nel cibarsi di polvere e di cenere che spettacolo sconfortante si mostrava ai suoi occhi quelle figure lo accerchiavano macilente e nebbiose e i loro occhi neri come quelli degli uccelli scandagliavano il terreno avventandosi su immondizie che avidamente si portavano alle bocche affamate temendo di rimanere prigioniero di quelle lande sterili dove la benevolenza del sole non scalda mai la terra Enchidu si mise a gridare con tanta forza che la sua voce disperata si propagò per tutto il palazzo inutile dire che già all'udire il primo grido Gilgamesh era balzato fuori dal proprio letto facendo volar via le sei concubine che erano con lui e si era messo a correre sfondando con una spallata la porta della stanza di Enchidu nel rendersi conto che non c'era alcun nemico ma che il suo compagno piangeva e tremava lo cullò fra le braccia come si fa con un bambino tuttavia l'incubo pareva a tal punto turbato la mente ingenua del colosso da precipitarlo in un costante malumore fratellino mi angoscia vederti senza il conforto di un sorriso domani tu e io lasceremo Uruk partendo per un'avventura che saprà restituirti il vigore che io tanto apprezzo in te tu che eri una creatura della selva conoscerai certamente la foresta dei cedri che si trova nel paese delle montagne al sentir quel nome gli occhi di Enchidu si strabuzzarono come quelli di un bue che ha fiutato nell'aria l'odore della tigre per la pioggia e il tuono non vorrai recarti laggiù fratello mio certo e tu mi accompagnerai lì crescono gli alberi più belli e maestosi il cui legno profuma anche secoli dopo il loro abbattimento gli unici degni di essere impiegati per l'edificazione di un tempio sacro per Anne e in Anna che è questa paura che ti leggo in viso un guerriero come te capace di tenermi testa nella lotta che teme qualche albero non degli alberi oltre errore ma di ciò che vi cammina in mezzo fratello tu sei ciò a cui tengo di più e verrò con te anche dovendo temere ogni passo che faremo ma ti supplico non ci avventuriamo tra quei cedri la foresta è dimora di un baba chi è costui se genera tanta paura nel mio fratellino gioia maggiore avrò nel farlo a pezzi a mani nude se sapessi chi è come lo so io tremeresti poiché egli è un mostro una cosa che fa impazzire animali e uomini non appena lo vedono orci e corvi mi hanno raccontato di lui quando ancora mi chiamavano fratello e nessuno si inoltra nel suo reame ma noi si invece e con la sua pelle ci faremo tuniche calzari e se moriremo lo faremo da eroi ridi fratello mio trascorri nella gioia i tuoi giorni poiché solo gli dèi hanno la certezza di vivere in eterno mentre noi siamo mortali e l'unica cosa che possiamo fare è agire in modo che la gente che verrà si ricordi i nostri nomi pensa che magnifica cosa tra molti e molti anni quando Uruk sarà polvere nel vento quelle genti diranno Gilgamesh ed Enkidu caddero da prodi scontrandosi contro un baba nella foresta dei cedri quel discorso infiammò l'animo di Enkidu che non era un vile e che aggiunse sempre con Gilgamesh sarà Enkidu così come non esiste il cielo senza il sole ma per garantirci un alleato ascolta il mio consiglio il paese delle montagne è benedetto dal grande Utu il dio del sole che certamente ci sarà favorevole se sacrificherai al suo altare il tuo toro più bello era una proposta assennata così l'indomani stesso Gilgamesh e un seguito di sacerdoti si recarono al tempio di Engalma a seguito di un cerimonioso rituale il toro venne sgozzato con un pugnale d'argento e il suo sangue rosso e vigoroso innaffiò l'altare come vino spargendo tutto intorno il suo affrore vitale dolciastro fatto questo e declamato le formule propiziatorie il sovrano fece ritorno a Uruk dove allestì i preparativi del viaggio un tragitto che avrebbe richiesto sei settimane a uomini comuni ne volle solo tre a Gilgamesh e Denkidu entrambi dotati di una forza e una resistenza ultraterrena rapidi come folate di vento raggiunsero il Libano il paese delle montagne e una volta in cima a un picco invocarono nuovamente il grande Utu ufficiando sacrifici in suo onore affinché egli facesse calare su di loro sogni che dessero visioni della loro impresa al calare del sole Enkidu predispose il geciglio per il suo signore facendolo addormentare in un cerchio e cantando litanie a Zikiku il signore dei sogni quella notte e per altre quattro il sonno del re di Uruk fu invaso da strani sogni dove montagne gli crollavano addosso e uomini che lo traevano d'impaccio offrendogli da bere Enkidu interpretò sempre favorevolmente tali viaggi onirici la montagna secondo lui simboleggiava la furia del guardiano delle foreste mentre il guerriero che lo soccorreva e ristorava era Enkidu medesimo pronto a correre in suo aiuto rincuorato da questi pronostici vantaggiosi Ghigamesh sentì nuova forza bruciare nel suo cuore scacciando le ombre di dubbio e paura che si erano raddensate nella sua mente man mano che la meta si approssimava giunsero così alla foresta di Cedri fratello mio non ci addentriamo subito ecco accendiamo un fuoco sacrifichiamo il cerbiatto da poco ucciso il grande Utu mentre tramonta il sole e ascoltiamo la sua saggezza in modo da affrontare meglio l'orrore che si cela in questi luoghi Ghigamesh acconsentì e fece quanto gli venne consigliato essendo egli dio per tre quarti non ebbe difficoltà a farsi udire dalle fiamme ardenti sulle quali sfrigolava il grasso dell'animale eruppe una voce forte e potente come il sole che albeggia generando vampe che sollevarono i capelli dalle spalle dei compagni all e il mortale che tentasse di aver ragione di un baba guardiana della foresta di cedri ma tu Ghigamesh non sei del tutto mortale la tua impresa potrebbe essere coronata dal successo ma devi agire subito l'essere che stai affrontando indossa sette veli ognuno in tessuto di un terrore più orribile dell'altro e quando è così aggrindato niente può sconfiggerlo ma il mio occhio brillante vede tutto e adesso un bava di quei veli ne indossa uno soltanto agisci adesso mentre è alla tua portata ringraziato il dio del sole il re di Uruk e il suo fraterno amico scivolarono fra i tronchi di quegli alberi sopravvissuti al grande diluvio estraendo le asce iniziarono ad abbattere il primo nudando la bianca polpa sotto la corteccia i possenti rintocchi provocati dalle lame che colpivano il fusto spargevano eco per tutta la silenziosa foresta come le increspature di un sasso lanciato nello stagno tali suoni arrivarono alle orecchie di un baba che subito comprese che qualcuno aveva osato violare la santità di quel luogo sfidando la sua autorità di guardiano muggendo come le acque durante un maremoto la mostruosa entità si mise a correre giungendo in un baleno laddove i due compagni avevano già abbattuto il primo cedro e si apprestavano a buttarne giù un secondo nemmeno gilgamesh potè trattenere un grido quando un baba gli comparve dinnanzi sbavando e ringhiando era la cosa più tremenda che si potesse immaginare figlio degli incubi sembrava un uomo colossale ma aveva artigli di leone al posto delle mani ma il vero orrore era rappresentato dal suo viso un viscido e contorto ammasso di visceri formavano la sua testa e tra le pieghe di quegli intestini pulsanti si spalancavano fauci di drago sormontate da occhi traboccanti di odio ricacciando il terrore istintivo gilgamesh si strappò la tunica di dosso e corse incontro alla bestia immonda urlando per contrastare i suoi ruggiti le chiome degli alberi si agitarono e da essi scesero turbini di vento arroventato che il dio utu il quale aveva preso a cuore la missione del re di uruk stava insufflando sulla terribile fiera avvolto da quelle spire che gli ricoprirono il corpo di bolle di ustioni un baba dimenticò il proprio nemico urlando e divincolandosi aspettando l'attimo in cui l'avversario era più vulnerabile gilgamesh gli valzò addosso vincendo la ripugnanza scaturita dal contatto con quel mostro dovette dar fondo a tutta la sua forza nonché a ogni astuzia da lottatore ma infine riuscì a schiacciarlo al terreno immobilizzandolo per mezzo di una lunga corda tra quel tremulo ammasso di budella che formavano la testa di un baba una voce si levò alle orecchie del re che colpa io potente sovrano se era mio compito proteggere la foresta fu enlil dio del vento a ordinarmelo e se sono stato crudele è perché eseguivo i suoi comandamenti risparmi a questo mostro generato dalla montagna e sarò tuo servo come il compagno che ti porti appresso gilgamesh sentì la propria furia e il proprio orrore scemare a quelle parole per quanto rivoltante un baba gli faceva compassione girandosi verso inchidu domandò fratello sai quanto importante sia per me il tuo giudizio cosa bisogna fare con questa creatura ucciderla senza pietà le sue lacrime sono veleno le sue parole traboccano d'inganno ora ti supplica e ti scongiura ma appena lo lascerai andare ci assalirà senza ascoltare le nostre invocazioni di pietà uccidilo e torniamo a uruk bugiardo bugiardo e invidioso temi che io possa prendere il tuo posto al suo fianco e nel suo cuore che tu debba dividere con me l'amicizia che adesso è tutta tua sei solo un serbo la sua ombra non lo eguaglierai mai e inchidu si scagliò su un baba e gilgamesh dovette fare un balzo indietro per non essere travolto dalla sua rabbia sotto gli occhi increduli del re il compagno massacrò la creatura con un tal numero di coltellate da ridurla ad un'irriconoscibile massa sanguinolenta basta basta inchidu placati quel che hai fatto è grave fratello consegnami il tuo pugnale staccherò la testa di questa creatura disgraziata e la offrirò in sacrificio al dio ellil sperando che perdoni l'offesa arrecata ma quando ciò venne fatto l'aria si fece improvvisamente gelida e attorno al corpo di gilgamesh aleggiò un vento freddo e putrido nel quale si avvertiva tutto il biasimo e il rancore che il dio del vento nutriva nei confronti suoi e dell'amico di ritorno a uruk il sovrano della città era quasi irriconoscibile i suoi abiti erano laceri la sua chioma opaca di polvere e le sue membra puzzavano del sudore accumulato durante il viaggio quando fu nuovamente nei suoi appartamenti una schiera di concubine gli prepararono il bagno in una vasca di rame profumando l'acqua con sali fragranti dopo averlo lavato lo massaggiarono con l'olio gli acconciarono i capelli con resine deliziose truccando i suoi occhi con il col e drappeggiandolo con la più colorata ricamata e regale veste del suo corredo una visione tale avrebbe reso languida qualsiasi donna ma non fu sguardo di fanciulla quello che colse gilgamesh mentre egli andava a godersi il fresco della sera a uno dei molti terrazzi sulla balaustra di porfido comparve all'improvviso una sagoma tra il crepitare di tante scintille multicolore che spettacolo che bellezza come se un brandello fiammeggiante d'aurora si fosse riplasmato in forma umana era un alto flessuoso corpo femminile avvolto in una trasparente tunica in tessuta di nebbia e di rugiada i seni turgidi come lune piene d'estate i fianchi ampi fertili e materni il sesso sigillato come quello di una vergine che sorrideva fra le cosce prosperose il viso era ineguagliabile un misto di purezza e desiderio dove labbra carnose e occhi di lapislazzuli esprimevano tutta la sua essenza ultraterrena i capelli erano una mareggiata scura che le ricadeva selvaggia sulle spalle e lungo la schiena fino a lambirle i magnifici piedi eburnei intrappolati in sandali di chiaro di luna attorno alla sua figura l'aria tremolava come accade sopra una fiamma non ebbe bisogno di presentarsi poiché gilgamesh già comprese chi ella fosse inanna sublime idea dell'amore nel vedere gilgamesh nella sua forma migliore era stata presa da una passione così sconfinata che se fosse stata una mortale avrebbe preso fuoco gettando al vento ogni ritegno si era manifestata lui dichiarandosi con la voce tremante di desiderio con il ventre palpitante di adorazione usò parole che orecchio maschile comune non potrebbe udire senza sciogliersi e che quindi non verranno riportate ma invece che ai piedi e accettare la sua proposta di matrimonio gilgamesh le scoccò uno sguardo sprezzante ora parli d'amore e fedeltà inanna ora mi offri il tuo corpo e i tuoi polsi affinché li possa vincolare con il laccio del matrimonio ti dichiari conquistata pronta ad amarmi a soddisfare le mie brame e i miei ordini ma non hai forse promesso ad altri ciò che ora vuoi concedermi quale prezzo infine dovrò pagare per aver goduto dei tuoi segni e delle tue labbra non esiste forse una lista di tuoi amanti celesti che a elencarla consumeremmo i giorni del mondo e che ne è ora di questi sventurati che hanno creduto alle tue parole derelitti e infelici avvizziti nei loro sogni mentre tu ti sei concessa mille altri sparisci di qui femmina menzognera che nella mia città ho più vulve di quanto riuscirò mai a soddisfare conclusa l'arringa con una grassa risata gilgamesh le voltò le spalle e non si curò più di lei neanche quando il cielo si fece scuro come il carbone ribollente di fulmini e neppure quando la mesopotamia intera tremò sotto le urla e le maledizioni che inanna faceva rimbombare mentre saliva al cielo strappandosi capelli dalla rabbia e dalla delusione uomini ben più saggi di gilgamesh che di acume certo non era un campione sapevano che l'odio di una donna rifiutata non lo contiene neanche il cielo tornata nelle dimore celesti dove gli dèi abitavano chiese immediatamente udienza al grande han signore del cielo quando fu davanti a lui il suo bel viso era rigato da lacrime incandescenti e trasfigurato dalla credine più distruttiva che si possa concepire ubriaca di furore fece una richiesta così terribile che anche han trasalì nell'ascoltarla per vendicarsi delle offese di gilgamesh voleva mandargli contro gugulanna il toro del cielo la bestia più scalmanata invincibile del creato non sai quello che dici stolta liberare gugulanna non requerebbe danno solo a colui che ti ha oltraggiata ma all'intera popolazione persone incolpevoli sai bene che se il toro calpesterà la terra sette anni di carestie ne seguiranno la bea non volle sentir ragioni e deliberante di rabbia minacciò han di spalancare i cancelli dell'oltretomba facendo sì che morti e vivi si mescolassero creando il più impensabile caos che l'universo avesse mai conosciuto han divenne seriamente preoccupato aveva a cuore le sorti di uruk ma ancor più quelle del mondo intero che sarebbe stato sconvolto dall'arrivo dei defunti decise di scegliere il male minore concedendo il toro del cielo a quella dea irragionevole così accecata dal rancore da non curarsi del male che la sua vendetta avrebbe recato anche agli innocenti al primo tuono tutti i contadini intenti nella mietitura dell'orzo alzarono increduli gli occhi al cielo non c'era alcuna nuvola perché allora aveva tuonato poi un secondo tuono più forte del primo la terra fremette sotto i loro piedi fascine di spighe e falcetti vennero abbandonati i volti impallidirono sotto la bronzatura gli occhi si dilatarono di terrore qualcosa di enorme correva verso uruk lasciandosi dietro un alto polverone giallastro ed i tuoni erano prodotti dai suoi passi che torturavano la terra mentre passava le messi annerivano i campi si trasformavano in lande di spiga passite di terra calcinata percorsa da crepe enormi come dopo un anno di siccità la gente fuggì strillando e le guardie corsero alle torrette suonando con foga i corni d'allarme che ben presto fecero riversare sui camminamenti interi guarnigioni di guerrieri armati di lanci e di arco ciò che videro quando si affacciarono fece perdere il senno a molti di loro alcuni caddero a terra morti di schianto richiamati dalle urla e dagli ululati dei corni gilgamesh ed enkidu abbandonarono le concubine con le quali stavano amoreggiando acchiappando al volo tuniche e armi precipitandosi fuori con le folte chiome ingioiellate che sobbalzavano sulle spalle i volti infiammati dalla loro insaziabile voglia di battaglia svelti come lampi percorsero la via principale trovandosi di fronte al grande portone del sole mentre questo veniva chiuso oltre gli enormi battenti eruppe un muggito così forte che riecheggiò nelle loro casse toraciche un secondo prima che la punta di due corna gigantesche trafiggesse il legno l'anta del portone venne scardinata e ora volteggiava impalata dalle corna di un toro mostruoso più grande di un elefante e più nero del catrame ridusse il portone in schegge e si gettò dentro uruk ogni volta che suoi zoccoli affondavano nel selciato da essi si diramavano fenditure così ampie che a decine vi caddero dentro finendo ammassati sul fondo del crepaccio uno stormo di frecce gli fu scagliato addosso dalle torrette dai camminamenti ma i dardi rimbalzarono sulla cotenna del mostro senza rallentarlo quella sgualdrina di inanna ruggì in bestialito gilgamesh notando la sagoma incandescente della dea sorvolare le mura questa è la tua rivalsa con me fratello riduciamo quel tono a bistecche lanciando tonanti grida di guerra si scagliarono sulla bestia la quale nel frattempo aveva ridotto a macerie mezzo quartiere calpestando botteghe sradicando fontane e macciullando uomini e donne sotto l'impeto degli zoccoli e in kidu fu il primo a raggiungere gugulanna lo provocò e aizò in mille modi facendogli versi e boccacce esacerbando l'ira della belva che gli corse dietro intenzionata trapassarlo ma in kidu era agile quanto una scimmia e rapido al pari dell'antilope evitò zoccoli e corna saltando sulle macerie e arrampicandosi sui muri diroccati il toro lo caricò ed in kidu afferrò le corna facendo ricorso a tutta la sua forza innaturale per trattenere quel colosso colpisci ora gilgamesh il re non se lo fece ripetere balzò la spada che rifletteva il sole la bocca aperta in un urlo di trionfo che trovò eco in tutta uruk affondando l'arma in mezzo alla fronte di gugulanna fino all'elsa gli occhi rossi del toro si fecero strabici e con un mugito agonizzante l'enorme creatura divina si schiantò al suolo facendo tremare le fondamenta stesse della città il tonfo dell'animale fu bisbiglio di giunco paragonato al fragore festante che esplose dalla folla cento e cento mani accorsero sollevare i due eroi che ridevano e gioivano portati in trionfo una voce stridente di rabbia saettò come una folgora in mezzo a tanto gaudio era inanna beffata per la seconda volta che appollaiata sopra le mura inveiva con le maledizioni e gli insulti più turpi che bocca di donna osi esprimere insolentito da quelle ingiurie e in kidu perse definitivamente la pazienza si liberò dalla stretta dei concittadini agguantò uno degli stinchi del toro e tirò torse e fece forza fino a quando l'immensa zampa non fu strappata dal corpo dell'animale ti tirerò giù gallinaccia starnazzante e una volta a terra arererò il tuo boschetto divino con l'impeto del mio vomere scagliò quindi la zampa di toro che volò roteando sopra le teste sprizzando sangue e se inanna non fosse stata lesta dissolversi certamente l'avrebbe abbattuta risate gaudenti e osanna si sprigionarono dalla popolazione mentre gilgamesh apriva il petto del toro estraendo nel grosso cuore fumante che veniva offerto al dio utu le corna della bestia invece furono fatte ricoprire di lapislazzuli e recate al palazzo di lugal banda il padre del sovrano seguirono giorni e notti di festeggiamenti sfarzosissimi dove i bardi di tutta la città perdevano la voce a furia di cantare odi e poesie per celebrare l'invincibilità di re gilgamesh e del suo fraterno amico enkidu inebriati dal vino e satolli di selvaggina i due amici si crogiolavano in una pace tanto intensa quanto illusoria l'uccisione del toro del cielo era affronto grave gravissimo questa volta gli dèi non potevano lasciar correre per la morte di gugulanna si chiedeva una vita in pagamento e siccome ad ammazzarlo erano stati gilgamesh ed enkidu uno dei due avrebbe dovuto spirare in modo che l'equilibrio fosse ristabilito la sentenza fu emanata e piove dal cielo notturno come una pioggia di ceneri calando su tutta uruk invisibile agli occhi mortali le guardie che pattugliavano le mura cittadine o i corridoi del palazzo reale non si accorsero di nulla la sua discesa non turbò i giochi notturni e le frivolezze dell'arem scese sul corpo di enkidu che dormiva ronfando e gli scivolò sotto le palpebre chiuse andando in profondità fino ai suoi sogni e di colpo il più fidato amico e consigliere di gilgamesh fu precipitato in una visione mostruosa e sconvolgente dove il cielo ruggiva e la terra si scuoteva come la groppa di un cavallo imbizzarrito dalle nuvole ribollenti volò una figura grottesca con quattro ali nere era la morte e al pari di un uccello rapace scese in picchiata su enkidu ghermendolo fra gli artigli e trasportandolo via lontano lontano cavalcando le gelide raffiche di vento quando venne lasciato andare il pover uomo scoprì di essere giunto alla casa di polvere luogo ultraterreno dal quale nessuno usciva vivo e lì con lui c'erano gli abitatori della dimora che si cibavano di cenere e argilla insieme ai grandi re del passato che sul capo non avevano più la corona simbolo del loro perduto potere su un trono fatto di scheletri era accomodata l'immonda eresh kigal regina delle tenebre ai cui piedi sedeva lo scriba dei morti con in mano una tavoletta fresca e uno stilo e gli fissò in volto enkidu chiedendo chi ha portato questa persona al che enkidu riuscì a rimergere dall'incubo urlando come uno sesso le sue gride e i suoi pianti svegliarono tutto il palazzo gilgamesh accorse per primo il volto preoccupato e i capelli sciolti parla fratello quale sogno ti priva del tuo giusto riposo non un sogno ma un presagio di morte gli dèi mi hanno abbandonato e sulla mia testa grave una terribile maledizione si accinse quindi a raccontare l'incubo singhiozzando non temere gli dèi sono parti di me e io parti di loro me li ingrazierò con preghiere e sacrifici se sarà necessario i sacerdoti canteranno litanie per giorni e per notti e immolerò fino all'ultimo vitello delle mie mandrie pur di evitarti un destino in fausto nulla affatto rassicurato enkidu seguito a piangere lamentarsi al punto che per tranquillizzarlo fu necessaria una pozione a base doppio quella fu solo la prima di una lunga serie di filtri medicamenti e farmaci che beve nei giorni seguenti quando le sue condizioni di salute presero a farsi sempre più gravi per ordine di gilgamesh gli altari sacrificali ebbero una vittima ogni ora mentre i sacerdoti si davano il cambio in modo da innalzare al cielo una perpetua preghiera ma nulla di tutto questo migliorò lo stato di enkidu il suo corpo forte possente era continuamente scosso dai brividi mentre la pelle spurgava sudore a causa della sua frebbe mentre la pelle spurgava sudore a causa della febbre violenta i dotti più esperti e illustri vennero fatti chiamare ma dopo averlo visitato ognuno di loro scuoteva cupamente il capo in un eloquenza che non necessitava di parole gli affari di uruk vennero distribuiti a consiglieri e visir dal momento che gilgamesh non abbandonava mai il capezzale del compagno provvedendo a posargli sulla fronte panni freschi e a tergergli il sudore questi fatti perdurarono per 12 giorni allo scoccare della mezzanotte del dodicesimo il palazzo intero trasecolò per un urlo disumano il verso di una bestia che urlava tutta la sofferenza che si possa provare senza morire tutti compresero chi stava gridando e cosa era successo e in kidu era morto e gilgamesh stava latrando la sua sofferenza nessuno osò entrare nella stanza temendo che avvicinarsi al cadavere avrebbe reso pazzo il re attraverso uno spiraglio lo videro girare per la sala con il corpo dell'amico in braccio gli occhi che sgorgavano lacrime come due fonti il petto sconquassato dai singhiozzi e dai lamenti più strazianti che si possano immaginare ogni tanto quella depressione trasmutava in rabbia gilgamesh si scagliava sui mobili riducendoli in frantumi si strappava le vesti colpendosi da solo e tirandosi i capelli per lenire con il dolore fisico l'emozione interiore fu durante una di queste esplosioni di folla che il grande sovrano di uruk fuggì dal palazzo correndo e gridando in preda alla follia era una visione tanto spaventosa che non ci fu uno che provò a fermarlo richiamarlo la gente fuggì nelle proprie case evitando persino di guardarlo temendo che la sua pazzia potesse contagiarli gli vennero aperti i portoni e degli corse lungo le strade che portavano ai campi mentre dall'alto delle mura le guardie lo osservavano piene di sgomento rabbrividendo a quegli ululati l'amicizia è più rara dei diamanti e più preziosa dell'oro solo chi ha perso un vero amico potrebbe capire lo strazio che dilaniò l'anima di gilgamesh in quei sette giorni in cui vagò nelle lande e in kidu era la metà di lui era ciò che lo rendeva integro e completo adesso sentivo una voragine creare eco mostruose dentro il suo corpo un buco che niente avrebbe più colmato il senso di solitudine era insopportabile lancinante quando fece ritorno a uruk era un'altra persona nudo sporco coi capelli ridotti a una crosta e il corpo pieno di cicatrici gli occhi recavano uno sguardo maniacale quando i visir gli andarono incontro coprendolo con manti di seta e accostandogli alle labbra coppe di vino dalla sua bocca uscì un solo ordine radunate gli uomini più saggi di uruk devo sapere come sconfiggere la morte fine prima parte il vostro oste e zelcor storie orrore del mistero vi invitano a mettere un like per arrivare presto alla seconda parte del racconto